Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella modifica da gangster, siamo qua nelle belle di Scampia per ora procede tutto bene ma sono in attesa di un carico proveniente da carioperico sono in attesa che i trasportatori dei Femidis, quindi quelli che si occupano della spedizione, di guidare barche, camion mi chiamano per fargli da scorta, però sono in ansia, sono in ansia perché sono già passate due ore ragazzi avevo appuntamento con loro alle 10 e sono quasi mezzogiorno quindi mi sto un po' preoccupando però neanche tanto perché diciamo ci può stare un ritardo di due ore ci è già capitato ragazzi però se si dovessero fare l'una, le due, le tre del pomeriggio allora la situazione diventa pericolosa perché ci dobbiamo preoccupare perché è successo qualcosa aspettiamo ragazzi, vi giuro sono due ore che vado avanti, indietro, avanti, indietro con questi qua perché comunque siamo pronti a partire però la chiamata non la stiamo ricevendo ragazzi per niente, per niente manneggio la misera ragazzi, questi mi fanno preoccupare a me ah, ok ok calmi tutti, calmi tutti vediamo, pronto? oh Franklin vedi che si stanno fermando la guardia di finanza, la guardia di finanza, ma che infame bastardo ha parlato già sapevano che stavamo qua, già non sapevano fate il resto, siamo al mal di Sandy Shore, da qua ci arrestano, ci arrestano io non voglio passare un guad, venite fatevi perdere tempo, ok, perdete tempo, inventatevi di tutto sentitevi male, svenite, fate qualcosa, ma perdete tempo, stiamo arrivando stiamo arrivando ecco qua ragazzi, qualcuno ha parlato la guardia di finanza già sapeva dell'arrivo di questo camion già lo sapeva ragazzi, già lo sapeva cavolo, già lo sapeva andiamo ad aiutarvi ragazzi, dobbiamo arrivare a Sandy Shore andiamo a Sandy Shore, ecco perché questo ritardo di due ore ragazzi eccolo perché questo ritardo di due ore, dai, sbrigati, sbrigati come ha fatto la guardia di finanza a trovarsi là? ora ditemi voi come ha fatto la guardia di finanza a trovarsi là ragazzi una roba assurda, qualcuno ha parlato qualcuno ha parlato ragazzi, non è possibile ieri sono stato contresi a Caio Pedico, sembrava tutto a posto eh tutto a posto ragazzi, tutto a posto, corriamo maronna mi questi qua ragazzi, mamma mia, mamma mia non si può stare mai calmi perché comunque parliamo di tantissime tonnellate veramente ragazzi, tonnellate, tonnellate, tonnellate se quelli aprono il portellone è finita ragazzi, è finita li stanno fermando in questo momento, ci dobbiamo sbrigare vai, arriviamo a Sandy Shore mi raccomando eh, appena li vedete, sparate, sparate tutti morti, tutti morti allora ragazzi, stiamo volando eh, con l'Alfa Romeo Giulia Turing aggressiva ragazzi questa è proprio la macchina dei narcos a tutti gli effetti vai, 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 vai arriviamo prima che scatto il controllo perché se scatto il controllo veramente ragazzi se arrivano al portellone è normale che poi chiameranno diciamo il backup, no? quindi altri agenti vai, 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 che ci siamo vai, che ci siamo, vai, che ci siamo prendiate le pistole, prendiate le pistole e caricate caricate ci siamo quasi ragazzi, vai vai, 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 vai vediamo che sta succedendo ragazzi dove che stanno? dove che stanno? non li vedo sto molo non lo conosco tanto bene ragazzi oh, eccoli 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 uuuu va scendete, scendete, scendete venite, venite, venite venite, venite, venite vai, 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 vai ok carica, carica, carica a posto ce ne manca uno a posto sta a posto oh, stiamo qua stiamo qua ora dovete dovete subito smammare da qua che arriva la polizia abbiate sto carico e portatelo là ok ragazzi il camion è riuscito ad andare andiamoci a prendere la macchina ragazzi andiamoci a prendere la macchina vai, vai, vai ragazzi scappiamo non mi posso far prendere il camion è già andato ragazzi il camion è già andato scappiamo scappiamo eccolo là lo vedo è qua mi hanno rotti i fari ragazzi mi hanno rotti i fari mannaggia la miseria posso riblocco lo devo scortare ragazzi lo devo scortare a tutti i costi questa pure si scassa sta macchina vai, 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 vai ok vai, vai, vai vai, vai vai, vai ce la facciamo ragazzi mi devo nascondere mi devo nascondere nascondiamoci che abbiamo la polizia adesso alle calcagne la macchina pure fa fatica ragazzi ok vai, vai, vai ma niente che si rompe però di qua non mi possono prendere ragazzi non mi possono prendere non mi possono prendere non mi possono prendere non mi possono prendere ragazzi non mi possono prendere non mi possono prendere ok è successo un casino è successo un casino in questo video è successo un casino ragazzi qualcosa che non doveva succedere vediamo dove mi posso nascondere andiamo di qua ok buono andiamo qua la macchina è a pezzi ragazzi sento il motore proprio che chiede pietà guardate quasi tutta rovinata spegniamo mamma mia ragazzi mamma mia forse l'abbiamo seminati devono capire un attimo sto carico che fa ragazzi c'è devono capire un attimo si sta arrivando qui devo muovere per forza vediamo un attimo di qua forse è quello si ok forse è lui forse è lui si 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 vai scortiamolo scortiamolo guarda ragazzi si sta spegnendo si sta spegnendo sta macchina vai vai andiamo a vedere se è avanti tutto a posto dai ah attina Ok Perfetto ragazzi vediamo Oh perfetto Ok ragazzi fermiamoci qua Io non so che fine abbiano fatto gli altri Io me ne sono scappato ragazzi Non me ne frega degli altri Pur il camion è abbastanza in fiamme È abbastanza consumato E niente ragazzi È andato tutto a posto Meno male che non hanno visto che siamo entrati qua I poliziotti li abbiamo seminati prima E però ragazzi abbiamo rischiato tantissimo È una cosa che non ci possiamo permettere Guardate qua sto camion Guardate qua sto camion Ha pure subito qualche Qualche danno ragazzi Per quanto riguarda le sospensioni che qua vedete Resta alzato Ci è andata proprio male ragazzi Ho rischiato proprio tantissimo Comunque è qua È meno cosa più importante Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi Con questo è tutto E noi sentiamo al prossimo video Bella